Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è Il Signore degli Anelli. Gli Anelli del Potere, è uno dei titoli del momento La serie tv di prime video, visibile anche su Sky Q e tramite app su Nov Smart Stick, è arrivata al suo quarto episodio e fa discutere il web, incontrando grandi lodi ma anche aspre critiche dai fan più puristi di Tolkien Due romanzi e due trilogie da recuperare.Magari vi sarà venuta voglia di vederla per unirvi al dibattito, ma vi siete spaventati all'idea di dover prima recuperare due trilogie filmiche, o due romanzi da oltre 2000 pagine complessive, perché non avete mai visto Oleto Lobby, e Il Signore degli Anelli Ecco, a voi ci ha pensato Zero Calcare, che su TikTok, ha pubblicato un video di due minuti scarsi in cui riassume i fatti salienti delle due vicende Il video di Zero Calcare.Nel video, che potete vedere embeddato qui sotto, il fumettista di Re Bibbia, parla sopra i suoi disegni che scorrono ritraendo nel suo inconfondibile stile alcuni dei personaggi principali della saga Naturalmente anche il racconto è nel suo stile.Ironico e caricaturale Una sintesi risicatissima, magari non precisissima ma certamente divertente Niente di serio, insomma, perché alla fine, che senso a prendersi troppo sul serio quando si parla di un racconto di fantasia? Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie Grazie per la visione